Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. In questo video tutorial, certificato per una durata superiore di 10 minuti, perché la vita è breve e l'arte è lunga, vi parlerò di come creare e gestire dei desktop virtuali. Ma a cosa servono i desktop virtuali? Bene, vi sarà senz'altro capitato di dover gestire contemporaneamente diverse attività durante una sessione al computer, per esempio avete aperto delle finestre di navigazione, oppure avete aperto un programma, io qui sto preparando un documento con gli argomenti del colloquio per la maturità, per la nuova maturità, oppure avete aperto magari anche una presentazione e in altre finestre ancora state cercando delle immagini. Ecco qui magari state leggendo i giornali, in altre finestre ancora state cercando delle immagini, qui state testando un programma, insomma tante attività che richiedono di passare da una finestra all'altra e creano una situazione di confusione e gravano il computer, che chiaramente sta per esplodere il computer, deve gestire con la sua RAM e con il suo processore un peso eccessivo di processi. Bene, i desktop virtuali servono per mettere un po' d'ordine, in pratica vi danno la possibilità di creare, oltre alla scrivania, appunto il desktop che avete, altri desktop, altre scrivanie. Io per esempio uso due schermi per organizzare meglio il lavoro, ma un'alternativa è appunto quella di usare dei desktop virtuali, quindi avrete un solo desktop reale, ma in realtà avete la possibilità di gestire più scrivanie nel vostro computer. E quindi ecco cosa sono i desktop virtuali. Bene, chi ha Windows 10 ha già la possibilità, in quanto tale funzionalità è nativa in Windows 10, cioè è già installata come installata in Windows 10, avete anche la possibilità di creare e gestire dei desktop virtuali. È sufficiente cliccare su visualizzatività, si aprirà la task view, che vi permetterà di realizzare vari desktop e di ordinare quindi le vostre attività, svolgendo in un desktop un'attività, un'altra attività in un altro desktop e così via. Il computer è meno affaticato dalla quantità di finestre aperte e tutto è più ordinato, è la vostra efficienza, come si dice, la vostra produttività, con questo termine. Insomma, diciamo che riuscite a gestire più efficacemente le vostre attività. Se volete, avete Windows 10 e volete sapere come utilizzare questa funzionalità, vi rimando a questo link. Bene, e se non avete Windows 10, se come me, scusate, abborrite Windows 10, io ho un Windows 7, esiste un programma che potete scaricare da qui, si chiama VirtuaWin, che vi permette di creare quattro finestre, chiedo scusa, non sono finestre, quattro scrivanie, anche più di quattro scrivanie virtuali contemporaneamente. Va bene, clicchiamo su Download e veniamo portati nella pagina da cui scaricare il programma. Si tratta, infatti, di un programma, cioè di un software, che possiamo installare nel nostro computer, oppure possiamo utilizzare la versione Portable, cioè una versione che non ha bisogno di installazione. Io ho scaricato questa, per l'appunto, in modo che non mi si installasse un ulteriore software nel computer, ma volendo si possono anche scaricare le versioni del programma 4.4 da installare, come per esempio questa. Bene, una volta installato il programma, ce lo ritroveremo in una cartella, io ho creato una cartella qui, temporanea, e vedete, quest'icona fa partire il programma, ripeto, è la versione portabile, e quindi, sì, che non ha bisogno di installazione. Io, per facilitare la cosa, col tasto destro, selezionando Invia a Desktop, ho creato un collegamento, quindi, tutte le volte che voglio utilizzare questa funzionalità, che mi servono di desktop virtuali, li faccio partire da qui. Doppio clic, e il programma è partito. Lo troviamo qui, sulla toolbar, vedete quest'icona, se clicco col tasto destro, è tutto in inglese, purtroppo, vedete, move to desktop, cioè muoviti tra un desktop e l'altro. Adesso questo è il desktop principale, posso passare a un secondo desktop, clicco su lavoro, e vedete che qui sono scomparse le finestre, qui posso aprire una nuova finestra, e posso fare una ricerca di immagini su un argomento qualsiasi, per una rivoluzione francese, e via, faccio una ricerca di immagini. Torno qui, e vedete, vado nuovamente sull'icona, clicco col tasto destro, e vado su un altro desktop, questo l'ho chiamato scuola, ma insomma li potete chiamare come volete, poi vi farò vedere come nominare il tutto. Vedete, qui non abbiamo niente, qui magari mi apro Word, per lavorare su Word. Ancora, proviamo a vedere così, vi rendete conto, l'ultimo desktop, l'ultima scrivania, non ci sono, ecco, stava ancora aprendo, poverino e lento, e qui magari mi metto a leggere la posta, e a rispondere alla posta. Ecco qui, adesso avete visto che ho tante aree di lavoro differenti, e in ognuna sto svolgendo una certa attività. Torniamo al desktop iniziale, perché vi voglio mostrare come, adesso chissà se lo ritrovo, dunque, come appunto passare più velocemente da un desktop all'altro. Basta cliccare CTRL più ALT più i vari tasti freccia, quindi se io clicco, schiaccio CTRL, ALT contemporaneamente, e poi, non so, il tasto a destra, vedete, passo a un altro desktop, vogliamo controllare, sono passato al desktop 3, mi pare, no, al 2, e così via. Quindi, torniamo al desktop principale, CTRL, ALT più i vari tasti freccia, cioè il tasto, la freccia in alto, quella a destra, quella in basso, e quella a sinistra, che mi consente di girare tra le varie scrivanie. Ma vediamo adesso il setup, e poi basta, perché non è necessario vedere nient'altro, quindi la configurazione. Vedete che qui abbiamo questa piccola scheda che ci permette, prima di tutto, di avere più scrivanie. Vedete, se io faccio questa operazione, ho sei scrivanie, oppure cinque, lasciamone sei. Poi mi permette di nominarle tutte, per esempio, principale, poi vado su next, vedete, cioè successivo, l'ho chiamato lavoro, posso chiamarlo pippo, e così via. E poi, ci sono altre possibilità, ma vedete, io qui ho lasciato tutto come era da configurazione, e quindi ho semplicemente cambiato i nomi. possono naturalmente cambiare anche i vari tasti per muovermi, ma insomma, io ho lasciato tutto uguale. Adesso applico, vedete, sei desktop, applica, ok, andiamo a vedere se mi ha cambiato il nome. Vedete che adesso abbiamo, addirittura nove ne ho creato di desktop, perché tre per tre fa nove, certo, non fa sei, tre per due avrei dovuto lasciare, quindi ho sei desktop, un po' troppi, ne toglierò qualcuno, vedete, adesso sono su Pippo. Bene, torniamo al desktop principale, e spero che questa guida a Virtua Win possa esservi utile, in effetti non si tratta di chissà quale grande rivoluzione, però a volte è vero che perdiamo molto tempo e facciamo una gran confusione, proprio a causa del fatto che abbiamo aperti troppi programmi, troppe finestre, e così via. In questo modo il computer ha delle prestazioni più performanti, anche se ha aperte tante cose, e soprattutto possiamo gestire ordinatamente le nostre attività. Vi saluto, vi ringrazio, questa volta non sono arrivato a dieci minuti, pazienza, alla prossima!